La citazione di cento autodivari raccolte e accumulate da mille seminari e l'ossessione per altri vizi strani come tenere guitarra e canne tra le mani La rete con cui lo hanno catturato è grande come il mondo dal quale lo hanno pescato poi come sempre l'amato e ributtato perché era un pesce marciuto e lo hanno liberato visto che ho pensato un po' Dei due che si lavavano più spesso al primo il funerale glielo hanno fatto adesso e l'altro pezzo è andato conto al forno forse venduto al letto perché era un pesce porno servito con contorno gradinato perché era un signor pesce e lo hanno rispettato Come citazioni di cento autodivari raccolte e accumulate da mille seminari e l'ossessione per altri vizi strani come tenere guitarra e canne tra le mani La rete con cui lo hanno catturato è grande come il mondo dal quale lo hanno pescato poi come sempre l'amato e ributtato perché era un pesce marciuto e lo hanno liberato Ma infine però un posto gli hanno trovato perché era un pesce morto e lo hanno assotterrato ma affine sui mi ha già visto che era un pescato ma infine ma infine ma infine ma infine Grazie.